E' un paese paradossale l'Italia se si pensa che tagliamo tutto, pensioni, livelli di assistenza minima negli ospedali e nel sistema sanitario, nella scuola, nella giustizia che è sempre più allo sbando, ma non riusciamo a tagliare i vitalizi a 2500 persone che sono a spasso per istrada, magari anche condannati per reati gravi contro il patrimonio e percepiscono pensioni da una babbi. Sono gli ex deputati, gli ex senatori, un esercito a spasso con i nostri soldi da 2, a 3, 4, 5, anche 7 mila euro netti, cioè aggiungeteci il 60% in più, una pensione di 2.381 netti e 64 centesimi per soltanto, pensate, 5 anni di mandato, una vergogna nazionale firmata dalla casta politica italiana. Un senatore di scelta civica, Andrea Mazziotti, aveva avanzato un emendamento che prevedeva proprio un taglio di pensioni e di vitalizi per gli ex deputati, una macchina che ogni anno muove oltre 230 milioni di euro destinati a 2500 fortunati individui cui la sorte ha concesso un dopolavoro aureo. Alla Camera il cinismo della politica italiana ha votato no all'emendamento. Hanno votato no 366 deputati, li elenchiamo, il PD di Renzi, la Lega di Salvini, Forza Italia di Berlusconi, l'NCD di Alfano. Hanno votato sì all'emendamento, cioè alla riduzione dei vitalizi ai deputati, soltanto 98 parlamentari, quelli del Movimento 5 Stelle e quelli di Fratelli d'Italia. Ricordiamocelo e non chiudiamo gli occhi quando andremo a votare. D'altra parte, come si può pensare che si voti contro se stessi? Su queste cose Camera e Senato sono un gigantesco esempio di conflitto di interessi. Lo vadano a dire a chi lavora per 45 anni e prende meno di 1000 euro di pensione al mese.